Calcio. Sii al meglio durante tutta la partita. Prestazione eccellente, velocità in campo e calci più forti. Tira con maggior potenza e velocità, conserva le energie e rimani concentrato durante il tempo di recupero con la linea Performance di Superpatch, testata e approvata per aiutarti a dare il meglio in ogni partita. Migliora la tua forza, più velocità e agilità, movimenti più esplosivi, senti meno il dolore quando ricevi colpi, più agilità per cambiare direzione rapidamente, minore rischio di infortuni. Migliora il tasso di forza sviluppo ed energia per un gioco di gambe più veloce, maggiore velocità sul campo, tiri più potenti, miglioramento della forza relativa, maggiore velocità e agilità, tiri più rapidi e potenti. Migliore elasticità, primo passo più veloce, miglior gioco di gambe, maggiore agilità, migliora equilibrio e stabilità, passaggi più puliti, colpisci la palla con più potenza e precisione, migliora la fase di recupero, riduci il rischio di infortuni, riprenditi più velocemente dopo la partita. Supportata dalla scienza, comprovata da studi. La tecnologia vibrotattile è una tecnologia basata sul contatto. Quando la pelle entra in contatto con il motivo del cerotto, questo provoca una sensazione e invia informazioni al cervello. Il cervello e il sistema nervoso elaborano questa stimolazione, migliorando immediatamente l'equilibrio, la stabilità e la potenza degli atleti e contribuendo a ridurre il dolore. Determinazione dell'efficacia. Tramite test del tasso, di sviluppo della forza, miglioramento dell'equilibrio e della stabilità. Grazie a una nuova applicazione sensoriale, la tecnologia di innesco vibrotattile aptica, effetti della stimolazione dell'avambraccio, sull'elettroencefalogramma umano e sulle reti cognitive. Miglioramento della tua prestazione. Acquista con una garanzia di rimborso a 30 giorni senza rischi. Victory Cerotto, da prestazione. Aumenta rapidamente le prestazioni atletiche con un cerotto da portare sempre con te, per una maggiore velocità, potenza ed energia. Come funziona la tecnologia SuperPatch? La tecnologia all'interno, dei cerotti. SuperPatch presenta delle creste disposte in modo unico che assomigliano ad un codice QR. Quando queste creste toccano la nostra pelle, le cellule trasmettono segnali unici che interagiscono con il sistema nervoso del nostro corpo. L'inventore di questi cerotti ha scoperto i diversi segnali che agiscono sulle funzioni fisiche, mentali ed emotive dell'organismo. Ogni SuperPatch ha un motivo a creste unico, QR Codes, che aiuta ad ottenere una vasta gamma di benefici per il benessere e le prestazioni sportive. Come si utilizza la tecnologia SuperPatch? La tecnologia SuperPatch non potrebbe essere più facile da usare. La tecnologia è posizionata strategicamente su tutti i prodotti che entrano in contatto con la pelle, avviando così la stimolazione vibro-tattile. La tecnologia SuperPatch è sicura? Sì! La tecnologia SuperPatch è stata studiata e progettata strategicamente per fornire una soluzione al 100% priva di farmaci, naturale e non invasiva per le persone che soffrono di problemi di dolore, equilibrio e mobilità. Da allora abbiamo sviluppato molte altre soluzioni per contribuire a migliorare la qualità della vita di tante altre persone. Inoltre, gli effetti sono quasi immediati. Qual è la vostra politica di reso? SuperPatch offre una garanzia di rimborso di 30 giorni, dandoti tutto il tempo necessario per provare il prodotto e sperimentarne i benefici in prima persona.